Inizia nel ricordo di Lauro Minghelli, Arezzo Olbi, a 15 anni dalla sua scomparsa. Orgoglio Amaranto ha consegnato una targa ricordo ai suoi genitori presenti allo stadio, splendida la coreografia della curva che porta il nome dell'indimenticabile giocatore dell'Arezzo. Venendo alla partita, dal canto manda Burzigotti a far coppia con Pinto, vista l'assenza di Pelagatti, Romeo confermato ad assistere Cutoro e Brunori. La gara è ostica, l'Olbi è schierata in modo quasi perfetto e non lascia quasi fiatare l'Arezzo, che infatti chiude il primo tempo senza trovare i pericoli. Nella ripresa va ancora peggio, con gli Amaranto che ringraziano setter, solo davanti a Pelagotti manca clamorosamente il vantaggio. Sembra uno 0-0 ormai iscritto, invece a due dalla fine è stavolta l'Arezzo a colpire. Proprio con Burzigotti, su corner di Serrotti, in corna perfettamente regala tre punti pesantissimi che portano l'Arezzo al secondo posto solitario della classifica. Riequilibrano le partite a favore e quelle a sfavore, così siamo tutti contenti. Oggi non diciamo più che siamo stati rimontati, parliamo di qualcos'altro. Una gara che si è fatta più complicata forse anche di quelle che erano le previsioni. Loro avevano studiato forse bene l'Arezzo, imbrigliandolo soprattutto fin dal primo pressing. L'Arezzo cosa ha sbagliato magari quando doveva costruire? Niente, loro sono stati bravi perché sono stati estremamente ordinati ed aggressivi. È una squadra che ha giocato come noi, nella fase di non possesso. Siccome noi siamo fastidiosi nella fase di non possesso, oggi loro sono stati nei nostri confronti, sono stati bravi, hanno fatto quello che dovevano. Non si sono presentati pure due volte a tu per tu con il portiere, la partita la potevamo pure perdere. Però la squadra è stata tenace e nella tenacia fortunata di essere premiata. Contra quegli eroghi sottoporta, poi quelle mosse dalla panchina, lì una piccola scintilla c'è stata. Guarda, abbiamo finito con 7 under, credo. Quindi è più che sufficiente per spiegare che dobbiamo stare tutti sereni e tranquilli, che la squadra sta approfondendo il massimo di quello che può approfondire. Penso un po' di più del massimo che può fare, quindi andiamo avanti sereni. Ecco, diceva prima dell'egoismo, che cosa voleva dire? Che è la seconda domenica consecutiva che abbiamo la palla da addormentare per far fischiarla fine all'arbitro, e invece è la seconda volta che andiamo verso la porta per voler far gol. Allora io capisco che un attaccante va a voler far gol, siccome prima c'è gli interessi della squadra e dopo i propri, la palla la deve pestare, sgonfiare, possibilmente vicino alla bandina del calcio d'angolo, visto che è la centocinquantesima volta che lo dico. Siccome dopo passo da coglione io, quando prendiamo i recuperi, mi sta bene passare da coglione, magari una volta di meno non è male. Al di là del primo posto, che forse è inarrivabile, la seconda posizione può essere rapportata? Sono calcoli che oggi ha nove gare dalla fine, perché una non la giochiamo, sono difficili da fare perché siamo tutte lì, perché il Pisa ora, secondo me, ha pure preso una marcia pesante, il Pisa è una squadra che sull'organico è più forte di noi, senza che ci giriamo tanto attorno. Poi nelle partite singole è il campo che parla, però alla lunga può essere che invece un organico che ha nove da quel tipo di caratteristiche, di giocatori là, possa avere alla lunga prevalere sugli altri. Abbiamo un distacco buono e tentiamo di tenerlo, spero, fino alla fine, se no il più a lungo possibile. Abbiamo fatto una partita di grande spessore, in casa di una squadra forte, come è descritto dalla classifica, e per l'ennesima volta ci troviamo a dover commentare una prestazione positiva, forse una delle più positive, che però non ha portato poi a quanto avrebbe dovuto portare in termini di risultati, in termini di punti. Dobbiamo ingoiare questo veleno, questo senso di giustizia che ci portiamo dentro, dobbiamo cercare di riversarlo il prima possibile in campo, e fare in modo che questo veleno segni però il passo a una crescita, a una maturità di una squadra che deve raccogliere per quanto produce. La sensazione dall'alto è che avevate studiato molto bene l'Arezzo, perché l'avevate imbrigliato in quello che poteva essere appunto lo sviluppo del suo gioco. Io penso che poche squadre, se non venuto qua, abbiano fatto la prestazione che ha fatto oggi l'Olbia, perché l'Arezzo è una squadra forte, abbiamo fatto una prestazione di grandissimo spessore, mettendo in difficoltà l'Arezzo sia nello sviluppo della loro azione, ma anche producendo gioco, soprattutto nel secondo tempo, li abbiamo chiusi nella loro metà campo, però è vero che le partite si vincono comunque facendo gol e non prendendolo, e su questo abbiamo peccato. Da che criminale forse è una disattenzione nel gol, perché questo angolo era stato battuto, non era un angolo velocissimo, e Burzigotti ha avuto tutto il tempo di mirare l'angolo lì. Per commentare i gol, specie quelli subiti, avrei bisogno di rivederli con calma, e per cui mi riservo il fatto di rivederlo con calma. L'unica cosa che in questo momento mi sento di esprimere è profonda rabbia per una partita che meritava un esito diverso, se fosse finita in parità, prima ho avuto di che recriminare, invece ci troviamo addirittura a commentare una partita sconfitta, e quindi l'unico sentimento che prevale in questo momento a caldo è profonda rabbia, ma non deve essere una rabbia fino a se stessa, deve essere una rabbia che poi va portata in campo.